Musica Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo questo telegiornale raccontandovi di una particolare storia, della storia di Anna, 85 anni, nativa della Valdega, ma Bolzanina da una vita. E' cieca ed ha problemi di deambulazione. Abita in un alloggio Ipes e chiede un po' più di rispetto ed attenzione per la condizione di disagio in cui si trova. Voglio raccontare la mia storia alla televisione perché chiedo di meritare almeno un po' di rispetto. Anna, classe 1930, è quasi completamente cieca e vive in un alloggio Ipes in Viale Europa, 35 a Bolzano. Nel suo appartamento la stanza da letto è al piano superiore. Per chi come lei è non vedente ed ha seri problemi di deambulazione, dover salire e scendere le scale rappresenta un vero e proprio calvario. Quando non si sente bene, Anna scende le scale strisciando seduta in terra per la paura di cadere. Ci racconta un'amica che la segue e la cudisce. La signora Galmetzer ci racconta la sua storia singhiozzando. Spiega di aver chiesto all'istituto per l'edilizia sociale di poter cambiare alloggio, ma le sarebbero state prospettate soluzioni alternative, ma però con appartamenti raggiungibili solo attraverso scale. Veramente, già da tanti anni che sono così, perché ho tutte e due le gambe rotte e non mi hanno mai ascoltato niente, perché ragioni hanno sempre loro. Io avrei anche qui, io non parlo se io non ho la sicurezza che questo è vero. Ma Anna, al di là del fatto che non sia stata ancora trovata una soluzione ideale alla sua condizione di disagio, lamenta soprattutto un atteggiamento nei suoi confronti che lei ritiene poco consono e percepisce come una mancanza di rispetto. No, e poi questo non viene mai detto niente, presentano il conto e basta. E se io voglio qualcosa, se vado su, mi rispondono solo male. Con la voce rotta in gola, l'85enne Bolzanina ci racconta solo l'ultimo episodio che le ha lasciato Lamaro in bocca. Ha chiesto solo di poter avere una chiave per il portone d'accesso al condominio, da dare alla donna che l'assiste, ma anche di fronte a questa semplice richiesta le hanno fatto mille e mille problemi. Non mi hanno dato, è solo di tanto tempo che non me l'hanno dato. Prima hanno detto no, bisogna andare che ne so dove. E poi hanno detto no, per fare la chiave bisogna avere l'inscritto che posso avere. Ma io non sono mica un delinquente, Dio buono. Passiamo alla cronaca. Il 44enne notaio Luca Barchi è rimasto gravemente ferito durante una gara motociclistica di enduro. Appassionato di enduro, gareggia per la scuderia Dolomiti. Stava compiendo una gara nel Vicentino quando nell'affrontare un avvallamento ha perso il controllo della moto, venendo sbalzato in aria. La moto è ricaduta sulla schiena del pilota provocandogli un trauma spinale. La gara, valida per il campionato Triveneto, è stata subito interrotta per permettere ai sanitari di prestare le prime cure al 44enne. Luca Barchi attualmente è ricoverato all'ospedale di Vicenza. Il futuro della Soland Silicon di Sinigo è appesa ad un filo. Ieri c'è stato un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, tra le possibilità un accordo con San Edison per la fornitura di 500 tonnellate l'anno di silicio. Intanto il 30 ottobre è stato annunciato uno sciopero. C'è grande apprezzione per il futuro dei 157 lavoratori della Soland Silicon di Sinigo. Ieri a Roma si è tenuto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per capire se vi possa essere la possibilità di mantenere ancora in vita il reparto di silicio policristallo. Tra le ipotesi vi sarebbe quella della stipula da parte di San Edison di un contratto per la fornitura di 500 tonnellate l'anno di silicio, di grado elettronico, con l'imprenditore Massimo Pugliese, che a gennaio ha rilevato lo stabilimento di silicio policristallo. Un accordo per il momento solo a parole, che si cercherà di mettere nero su bianco già questa settimana. Ma dai sindacati, soprattutto da Maurizio Albrigo della CIS, c'è molta prudenza. Quindi entro la fine di questo mese sapremo se avverrà o non avverrà questo accordo fra Soland e San Edison, ma sicuramente questa non è la chiave di svolta per dare continuità all'attività produttiva di Soland, in quanto sappiamo benissimo che questa azienda per sopravvivere ha bisogno minimo di 1200-1300 tonnellate di prodotto all'anno. Se Soland Edison ne offre massimo 500, la differenza deve essere trovata sul mercato, sapendo benissimo che non è un mercato florido, è un mercato molto molto complicato, ed è un mercato nella quale dobbiamo entrare in concorrenza con cinesi, coreani e teueani. E quindi è una situazione molto molto difficile di dare continuità produttiva a questa azienda di Marano. Per riavviare l'impianto fermo da tre anni servirebbero 10 milioni di euro per i macchinari, 5 milioni di euro per i fornitori e 6 milioni di euro per la fideiusione a SEL che dovrà fornire energia a prezzi contenuti. Alla cifra vanno poi aggiunti gli stipendi arretrati, la cassa integrazione e le altre aspettanze ancora in essere. E questa mattina si è tenuta un'assemblea con i lavoratori per aggiornarli della situazione. Abbiamo mantenuto ferma questa decisione di tenere aperto lo sciopero fino al 30 di ottobre, quindi questi lavoratori sciopereranno fino al 30 di ottobre, con sciopero molto puntuali di modo ad avere meno danno verso il lavoratore e più danno verso l'azienda. Chiaramente purtroppo potrebbe accadere che in questa fase verrà coinvolta anche San Edison, perché le due aziende sono scollegate ma c'è un cordone umbilicale ancora collegato fra loro due. E quindi potrebbe accadere, ripeto, in questa fase fino al 30 di ottobre, indirettamente venga coinvolta San Edison. Quindi questa è la decisione che è stata presa questa mattina assieme ai lavoratori. Il 29 ottobre prossimo intanto è previsto un nuovo incontro a Roma per verificare se l'operazione è fattibile o meno. Per il momento rimangono solo tanti punti interrogativi. Avventura a lieto fine per una coppia di germanici rimasta bloccata in parete sul Catinaccio. A trarli in salvo il personale del soccorso alpino. I due escursionisti ieri hanno deciso di affrontare la cresta sud del Catinaccio, ma per raggiungere la vetta ci hanno messo più del previsto, arrivando solo in serata. A ritrovare la via normale, al Catinaccio, da cui calarsi in corda doppia e tornare a valle è stato impossibile. E quindi sono rimasti bloccati in parete. Grazie all'arrivo dei soccorritori chiamati intorno alle due di notte, la coppia di germanici è stata tratta in salvo. Schianto autoscooter questa mattina intorno alle 8.30 all'altezza del sottopasso che da via Le Trento porta in via Claudia Augusta Bolzano ad avere la peggio lo scuterista che è stato medicato sul posto dai sanitari della 118. Per i rilievi di legge sono intervenuti i vigili urbani. Passiamo alla politica. Dopo le dimissioni e la caduta della giunta comunale bolzanina, Klaus Ladins era deciso di prendersi un po' di tempo e di farsi da parte. Dopo dieci anni da vice sindaco di Bolzano, Klaus Ladins era deciso di prendersi un po' di tempo. Dopo la caduta della giunta comunale guidata da Luigi Spagnoli e del commissariamento, Ladins era deciso di uscire dalla politica. Sulle pagine del quotidiano Alto Adige ha raccontato di volersi fare da parte per far posto ad altri accusando il suo partito di aver perso quei valori che l'hanno contraddistinto per anni, ovvero l'identità e l'unità di gruppo. Questa volta, secondo Ladinser, invece hanno prevalso gli interessi. Il partito sarebbe in ostaggio della fazione antibenco. Non voglio dire che i benchiani abbiano ragione, ha evidenziato Ladinser e gli anti-benchiani Torto. Alle prossime riunioni, intanto, di partito, Klaus Ladinser ha detto che non parteciperà, anche se vorrebbe rivedere una stella alpina vicino agli impiegati, ai commercianti, al Bauerbund, alla gente che ha poco denaro e a quella che ne ha di più e che crede nei valori storici. Novità in vista per l'uso di contanti. Non possiamo che condividere quanto affermato dal Presidente del Consiglio Renzi che ha annunciato come nella prossima legge di stabilità il limite per l'uso dei contanti sarà portato da 1.000 a 3.000 euro. A riferirlo Daniel Alfreider, Presidente dei Deputati SVP. È agli atti la priorità attribuita dall'ESVP a tale obiettivo anche con la mozione parlamentare a mia prima firma con il consenso di altri gruppi parlamentari che è stata approvata dal Parlamento con la quale si impegnava il Governo a rivedere la normativa sul contante, convinti ieri e consapevoli oggi che porre tale obiettivo avrebbe determinato una piena assunzione di responsabilità del Governo per riportare i livelli del contante alla media europea. Alto Adige, il bilinguismo si adegua all'Unione Europea approvata dal Consiglio dei Ministri e la norma d'attuazione. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Cittadini dell'Unione Europea ed extracomunitari potranno scegliere tra la lingua italiana e quella tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. In Alto Adige, la norma d'attuazione adeguata alle disposizioni dell'Unione Europea è stata approvata dal Consiglio dei Ministri presente a Palazzo Chigi, il Vice Presidente della provincia Richard Tainer in rappresentanza del Presidente Arno Compaccer. La Commissione Europea aveva rilevato che la norma vigente non prevedeva esplicitamente per i cittadini extracomunitari e quelli di Paesi membri la scelta tra la lingua tedesca e quella italiana nei rapporti con gli uffici dell'amministrazione pubblica e nei procedimenti giudiziari, in quanto il regolamento si riferiva solo ai cittadini italiani residenti in Alto Adige. Grazie all'adeguamento della norma di attuazione agli sviluppi della disciplina dell'Unione Europea, ha fatto presente Richard Tainer a tutti i cittadini europei, i non europei, soggiornanti di lungo periodo e richiedenti asilo, potranno ora scegliere fra la lingua italiana e quella tedesca nei rapporti pubblici in Alto Adige. Oggi a Trento è stato firmato un accordo tra il Fondo Europeo per gli investimenti e Medio Credito Trentino Alto Adige, che prevede l'erogazione nei prossimi due anni di 30 milioni di euro alle piccole e medie imprese innovative. Le risorse garantite al 50% da FEI sono messe a disposizione da Medio Credito a quelle imprese innovative per un massimo di 3 milioni a testa che abbiano un adeguato merito di credito, meno di 250 dipendenti e non abbiano sufficienti risorse per crescere. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break, ma poi torneremo in studio con lo sport. Rimanete con noi. Ti stai laureando o hai già discusso la tesi? Stai conseguendo un diploma specialistico? Se il tema è di interesse locale, consegna il tuo lavoro alla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. Dai il tuo contributo alla ricerca locale. Partecipa al premio della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. E allora eccoci anche allo spazio dedicato allo sport. Apriamo con l'hockey su ghiaccio dopo la sconfitta subita domenica per 2-1 in casa dei Red Bulls Salisburgo. L'hockey club Bolzano questa sera torna sul ghiaccio. Il ghiaccio al palaonda, Egger e compagni affronteranno il Graz. Fischio d'ingaggio alle 19.45 per il primo dei tre incontri casalinghi nel giro di pochi giorni. I biancorossi al momento sono ottavi in classifica, ma con 9 squadre racchiuse in soli 7 punti tutto può succedere. E passiamo al basket femminile. Sconfitta con onore per le ragazze del basket. Club Bolzano all'esordio nel campionato di Serie A2 contro la forte formazione del Vicenza, che si è imposta per 46-36. Come si suol dire, ha davvero venduto cara la pelle la formazione femminile del basket club Bolzano nella partita d'esordio nella Serie A2. Sul parquet del Palamazali contro la corazzata Vicenza, quotata formazione che punta dritta alla Serie A1, le padrone di casa sono state battute con il risultato di 36-46. Sconfitta sì, ma con onore e a testa alta vista l'assenza tra le fila biancorosse dei due centri ed un roster di primissima qualità messo in campo dalla società vicentina. La squadra Bolzanina, guidata da Walter Bazzan, è riuscita a mettere più volte in serie a difficoltà le avversarie che hanno dovuto faticare non poco per conquistare l'intero bottino in quella di Viale Trieste. Penso che le ragazze, gli allenatori non sono mai contenti. come è giusto che sia. Le ragazze penso che devono essere contente, soprattutto i primi tre quarti e alla fine ha pagato la differenza di peso e di fisico, perché loro avevano due lunghe sopra il metro e novanta e abbiamo fatto la differenza. Abbiamo concesso qualche rimbalzo di troppo. Dopo un'ottima prestazione, soprattutto nel terzo quarto, sul finire del match, la compagine Bolzanina ha accusato un calo di rendimento che ha permesso alle ospiti di conquistare la vittoria. Noi abbiamo giovani in campo, poi la Ceola si è fatta male, si è strappata, le aduttori, la Desalers si è fatta male, anche lei ha sempre all'inguine, abbiamo avuto due rotazioni in meno. Però se mi dicevano che avrei perso in questa maniera, ci avrei messo la firma. Peccato perché le ragazze hanno veramente fatto una grande partita. Tra le fila del basket club Bolzano, da segnalare le buone prestazioni del nuovo innesto Viviana Giordano, che ha firmato 10 punti, e dell'altra esordiente Alexa Pobitzer, 16enne proveniente dal vivaio giovanile. Adesso però si pensa già al prossimo turno, quando le ragazze del BC Bolzano dovranno vedersela con il pordenone reduce dalla vittoria contro il Verona. Ed è tutto anche per lo sport, ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Nel pomeriggio domineranno ancora le nubi con locali precipitazioni più frequenti a est. In serata e soprattutto durante la notte i fenomeni saranno nuovamente più diffusi, le temperature non aumenteranno di molto e raggiungeranno massime tra i 10 e i 16 gradi. Per domani cielo molto nuvoloso o coperto con piogge a tratti, soprattutto nel pomeriggio i fenomeni potranno essere più intensi, limite della neve in calo fino a 1300 metri sulla cresta di confine, a quote più elevate a sud. Tra giovedì e venerdì il cielo sarà tra variabilmente e molto nuvoloso, con piogge a tratti per il fine settimana si prevede un lieve miglioramento, temperature piuttosto basse. È tutto per questa edizione, prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre il nostro indirizzo internet www.video33.it Vi ricordo che attivo anche il nostro profilo Facebook. L'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle 19, ma non resta altro che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Grazie a tutti! Grazie a tutti!